Una parata di leggende, auto da rally e da competizione a Pieve Santo Stefano con lo Spino, leggende in salita, un concorso dinamico per auto e moto storiche sportive da competizione. Vere e proprie signore dei rally, oggetto di valutazione da parte di una giuria d'onore di cui faceva parte Andrea Guidi, titolare del glorioso Jolly Club. È stato proprio lui ad assegnare i premi alle vetture rally più rappresentative in questa specialità. Realtà importante per l'evento è il club Il Saracino di Arezzo, co-organizzatore assieme anche al club auto-moto d'epoca toscano Camet. Se non ci fosse passione non saremmo alla seconda riedizione di questo concorso dinamico per auto da competizione sportive che gli amici dello Spino, loro sono i veri proprietari e i dirigenti dello Spino hanno messo a calendario. Io li aiuto esternamente per curare la logistica e per trovare macchine importanti. Non si tratta di una cronoscalata, non c'è nella maniera più assoluta rilevamento tempi, però le macchine sono quelle che sono salite sui tornanti già a partire dagli anni 60. Tu Beppe sei fortunato perché stamattina è il tuo debutto nel mondo delle salite con la tua Abarth 8,50. Sei il neo ultimo proprietario di questa macchina bellissima che vedete alla destra di Marconi e questa mattina tu ti godrai per la prima volta i 12 km e 700 dello Spino che credimi io le salite in Italia le conosco tutte ma il tracciato dello Spino è il più bello in assoluto di tutto.